Intanto la prima cosa importante da sottolineare è il fatto che le parole chiave di economia e cultura sono legate anche al turismo. Non esiste un turismo senza i beni culturali, che sono l'espressione, l'immagine del nostro territorio. Secondariamente quello che più preme in questa attività, in questa riunione di stasera, ma soprattutto anche nella gestione delle politiche turistiche locali, è il coordinamento e la promozione turistica dei luoghi o del luogo specifico su cui noi operiamo. È una realtà, intanto Messina turistica, diciamo che rispetto agli anni passati sta crescendo. Un flusso turistico, certo non di grandi dimensioni, però c'è, esiste, è anche dettato dal presente degli escursionisti che scendono dai navi da crociera. Ma Messina può essere una città turistica a tutti gli effetti nella realtà. Quello su cui si sta lavorando è sulla base delle indicazioni che ha dato il Ministero dei beni culturali e del turismo. Anzitutto i cammini, i borghi, l'anno nazionale del cibo e in particolare anche il turismo cloi, il turismo lento. Sui cammini già è stata creata la mappa dei Monti Peloridani, un'offerta turistica che interessa moltissime persone, non soltanto i turisti ma anche i cittadini. L'economia non arriva direttamente dalla cultura, ma noi a Messina abbiamo un problema fortissimo di recupero della nostra identità. Abbiamo bisogno di riscoprire le nostre radici, perché i sistemi dentro cui ci stiamo muovendo cercano di togliere identità per governare meglio processi in forma autoreferenziale. Allora noi abbiamo bisogno di localizzare la nostra identità, di svilupparla nel territorio, di dare risposte di costruzione di tessuto sociale. Sicuramente molte associazioni che si muovono nel territorio cercano di sviluppare percorsi di promozione e di sostegno dell'economia. Noi già abbiamo nella città associazioni che si muovono facendo economia nel settore del turismo. Certo, debbono essere meglio guidate, meglio organizzate, debbono scoprire ancora di più la competenza e lo sviluppo, agganciandosi a meccanismi europei che noi dobbiamo imparare a utilizzare.